Sei in pre-menopausa o menopausa? Oggi vediamo tre errori gravi in menopausa che ti fanno mostrare più anni di quelli che hai in realtà. Oggi parliamo di anti-aging, un argomento che ritengo importantissimo perché collegato sia alla salute fisica che alla salute psicologica. Prima di vedere i tre errori però, scrivimi nei commenti se sei già in menopausa oppure no e cosa stai facendo attualmente per prenderti cura del tuo aspetto fisico e della tua salute. Scrivi tutto perché magari i tuoi consigli possono essere utili anche alle altre donne che ti leggeranno ma non perdiamo troppo tempo e iniziamo con il video. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione e menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e la salute in menopausa. Il primo errore è fumare. Donne, il fumo di sigaretta è deleterio ma non solo per la vostra salute, anche per la vostra bellezza. Fumare causa la cosiddetta smoker's face, in italiano faccia del fumatore, un viso che presenta caratteristiche estetiche ben precise causate proprio da questo maledetto vizio. Il fumo infatti riduce l'apporto cutaneo di ossigeno e la circolazione sanguigna e tutto ciò causa un precoce invecchiamento della pelle. Chi fuma più di 50 pacchetti di sigarette l'anno ha una probabilità di sviluppare l'invecchiamento precoce della pelle di circa 5 volte superiore rispetto ai non fumatori. Il fumo causa rughe più pronunciate sulle guance, attorno agli occhi e sopra la bocca. La pelle di una fumatrice si presenta poi più secca, spenta, poco elastica e dal colorito disomogeneo e pallido. Fumare favorisce anche il dilatamento dei capelli che già di per sé può presentarsi in menopausa. Butta le sigarette se ci tieni al tuo viso e alla tua pelle. Secondo errore Esporsi troppo al sole Parliamo di fotoinvecchiamento, particolare stato di invecchiamento cutaneo causato dal danno cronico provocato dai raggi ultravioletti UVA e UVB. Le radiazioni ultraviolette del sole e delle lampade ambrozzanti causano veri e propri danni alle strutture della pelle aumentando i processi ossidativi e l'instabilità delle cellule della cute e provocando danni al DNA. Esporsi troppo al sole aumenta anche il rischio di sviluppare i tumori della cute. Le manifestazioni sulla pelle del fotoinvecchiamento sono Rughe più estese e profonde Perdia di tonicità ed elasticità Perdia di compattezza della pelle Pelle secca E macchie solari Marroni, grigioscure o biancastre O comunque alterata pigmentazione della cute Esponiti quindi poco al sole e mai nelle ore più calde E sempre con la crema solare Crema solare che sul viso andrebbe messa ogni giorno Terzo errore Questo è un po' scontato perché sono un nutrizionista Comunque l'errore è Essere in sovrappeso, mangiare male e non praticare attività fisica Avere del peso in eccesso è un fattore di rischio per l'invecchiamento precoce della pelle L'obesità infatti è associata a un maggiore stress ossidativo Fattore che danneggia le cellule Anche quelle della nostra pelle Sempre l'obesità è correlata ad un aumentato fenomeno di glicazione Cioè zuccheri che si legano alle proteine delle cellule Danneggiandole Insomma, non basterebbe un manuale di mille pagine Per descrivere i danni di uno stile di vita non sano Sull'invecchiamento della pelle L'attività fisica anche è importante Perché riduce lo stress ossidativo Favorisce il sonno Riduce lo stress in generale E migliora la circolazione Tutti i fattori che aiuteranno la tua pelle a rimanere giovane Mi raccomando Migliora la tua alimentazione Fai del movimento Non solo dimagrirai Anche la tua pelle ne gioverà Fai una cosa Scrivimi nei commenti quali di questi errori stai facendo E dimmi anche se ti piacerebbe vedere altri video sull'anti-aging in menopausa Prenditi cura di te stessa, mi raccomando Un abbraccio dal tuo dottore Sei una donna in pre o post-menopausa? Fammi indovinare Stai cercando una soluzione per dimagrire in salute senza fare la fame, vero? Clicca sul link che trovi sul mio profilo Per vedere un tutorial gratuito Che ti aiuterà a perdere peso in menopausa senza fare la fame Grazie Grazie